Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video particolare perché non andiamo a parlare di FIFA nello specifico, gameplay, tattiche, eccetera, eccetera, ma oggi in qualche modo vi parlo di un qualcosa che comunque è relativo al mondo di FIFA stesso e comunque al mondo videoludico. Di fatti vi vado ad annunciare una collaborazione costretta con il famosissimo sito Instant Gaming che credo che la maggior parte di voi conesceranno e vi faccio vedere insomma come funziona acquistare su questo sito dove potete trovare un'infinità di sconti su tutto quello che riguarda PSN Card, abbonamenti al PSN, abbonamenti Xbox Live, carte Microsoft, quindi anche la possibilità appunto di fare ricariche per poter acquistare FIFA Points, potete anche acquistare giochi per Steam, quindi per il PC, eccetera, eccetera. Quindi con un rapido e classico cambio di scena, eccoci qui, allora la prima cosa che dovete fare è cliccare nel primo link che trovate in descrizione, ovvero il mio referral link. Una volta cliccato sul mio referral link, questa sarà la schermata che vi si aprirà, ovvero appunto quella del sito di Instant Gaming. Vedete qui questo menu sulla sinistra nel quale potete andare a selezionare quelle che sono appunto le categorie che vi interessano. Ad esempio, mettiamo il caso in cui appunto sicuramente la maggior parte di voi gioca su PlayStation, clicchiamo su PlayStation. Ed ecco qui che si apre un'ulteriore pagina e vedete che ci sono i best seller, ovvero quelli che sono i prodotti più venduti. Ad esempio vedete il PlayStation Plus, l'abbonamento per giocare appunto online annuale scontato il 25% a 44,99€. Ho ancora una ricarica portafoglio da 20€ scontata a 17,99€ e la ricarica da 50€ scontata al 12% a 43,99€. Quindi la possibilità attraverso l'acquisto di queste ricariche poi ad esempio di andare a riscattare quelli che sono FIFA Points a prezzi super convenienti perché ricaricando 50€ pagati 43, se poi andate anche ad avere magari le access pagate ancora meno FIFA Points con uno sconto quasi del 25-30%. Oppure, vi faccio vedere, andando ad esempio su Xbox, stessa cosa. Troviamo l'Xbox Live Gold, abbiamo le gift card sempre per le quali riscattare quelli che sono FIFA Points, abbiamo addirittura il Game Pass, anche giochi. Come vedete abbiamo Forza Horizon a 35€ scontato del 50%. E non solo, perché vi dicevo, ci sono anche tante altre piattaforme. Abbiamo per esempio Switch, Steam, se qualcuno di voi gioca su PC, guardate qui quanti giochi trovate. Age of Empire, un gioco che insomma ha caratterizzato la nostra infanzia sicuramente scontato del 30%, Date by the Light scontato del 73%, insomma tanta tanta roba trovate su questo sito. Io credo che, insomma, già prima ci acquistavo, e ve lo dico in molta franchezza, continuerò a farlo. Spero che questa collaborazione possa piacervi e possa soprattutto esservi d'aiuto, visto che è passata quella che è la fase caliente degli spacchettamenti su FIFA, ma non girate una voltata, ci ritroviamo ai toti, oppure possiamo anche iniziarci a preparare ai toti, visto che spesso e volentieri escono offerte su quelle che sono le ricariche portafoglio, quindi per arrivare a spacchettare come dei pazzi ludopatici, quanto sarà il momento. Quindi, regà, per quanto riguarda questo video è tutto, mi raccomando, trovate il mio referral link nel primo link in descrizione, utilizzato, fatene buon uso, diffondete il verbo, diffondetelo ad amici, parenti, nonne, zii e nipoti, in maniera tale che più viene utilizzato, più abbiamo la possibilità di ottenere insieme anche sconti maggiori, quindi è una cosa che fa bene a voi e chiaramente fa bene anche a me. E nulla, regà, io vi auguro una buona giornata, ci vediamo, come al solito, ogni giorno live su Twitch. E nulla, regà, un saluto a voi. Ciao, ciao.